ciao ragazze io sono ross e sono la vostra coach in questo mini workout utilizzeremo la corda e faremo degli esercizi per gli addominali da in piedi iniziamo iniziamo pesi i bans piedi uniti respiro ok vado a toccare la punta del piede con la mano opposta gamba tesa prendo la corda mi preparo per high knees respiro intanto sulle ginocchia ok mani dietro la nuca ginocchio al gomito opposto prendo fiato di nuovo corda scissors non spiega piaccia pote per Dai, dai, dai. Ok, sempre. Gomiti. Mani dietro la nuca. Gomiti aperti. Leg lift. Knee up. Hand torso. Alterno. Addome super attivo. Forza. Ok. E riparto tutto da capo. Basic bounce. Dai, ragazze. Bravissima e forza. Gomiti stretti. Ok. 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 Schiena dritta. Addome attivo. Respiro. Ok. 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 High knees. Sulle ginocchia. Forza, bravissime. Ok. Dai, dai. Dai che manca poco. Ok. Controlla il movimento. Scissors. Dai, ricomincio. Ok, ultimo esercizio. Leg lift, knee up, and torso. E ok, ragazzi, abbiamo finito il workout. Questo mini workout può essere eseguito da solo oppure dopo aver fatto un workout completo. Like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, condividetelo e noi ci vediamo nei prossimi workout. Ciao! 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 Ciao!